Cosa c'è dietro ad un petto di pollo Fileni Bio? Dietro c'è tutta la natura incontaminata, le coltivazioni non OGM, gli spazi liberi, i nostri polli che vivono all'aria aperta, che mangiano solo mangimi biologici, i nostri uomini che controllano, che ricercano, che amano. Dietro ad ogni prodotto Fileni Bio c'è tutto l'impegno per unire gusto e qualità. Fileni Bio. Più buono il pollo, più sano tu.